Ma non esistono parrucchieri in questo posto! Oh! Il rasoio sacro! Ma io se non ho capelli come faccio a usarlo? Oh! 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 Sembra bello che lui non ha incontrato nessun demone e nessuno ha cercato di farlo fuori! La spada è lì da duemila anni! C'è qualcosa che non quadra, eh! La spada è la mia! E a la mia! Non so! Oh! 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 Missione 17, demoni dentro, dove c'è il boss più facile di tutto il gioco, più o meno. Oh, non c'ho nulla da fare io. Anzi, anzi, no, cazzo. Si che ce l'ho. Aspetta, eh. No, com'è che si faccio io, cazzo? Questa si che mi serve. Ok. Iniziamo. Andando di lì si va... vabbè. Niente. C'è una zona di combattimento e se si riesce a vincerti danno una sfera dorata o gialla. Non lo voglio di perdere tempo. Tutto gira, tutto vola. Che da sballo. I gormietti sono venuti in mio aiuto. Mi danno il potere di gorm. Qua ci vuole Beowulf. Ma non ho abbastanza tecnica a disposizione per farlo bene, quindi niente. No, aspetta un attimo, eh. Calma, per favore. No, aspetta un attimo. Sigh. Ma porca puttana Dante che cazzo vai a fare? Ma si può, cazzarola. Stava andando tutto così bene. Mi pigliavo uno stylish della Madonna. E invece che cavolo mi tocca vedere? Mi faccio colpire perché sto coccumolo di Dante mette a colpire gli altri nemici. Ma porco zio che roba è. Sigh. Ti perdono perché sei te, dai. Ok. Ma non esagerare con le cazzate, ti avverto. Sennò io ti rimpiazzo. No! Pfff. Coglione morco. E da qui dov'è che vado di grazia? Ah. Ok. La telecamera si gira troppo lentamente per i miei gusti. Sigh. I tempi della saggezza. Della rompitura di Maroni. Sigh. 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 Grazie a tutti! E' troppo facile! Io le odio sto cazzo di punte! Mamma mia! Manco avessi bisogno di non tutti i cadenti! Vabbè che modalità normale non sono neanche difficilissime da evitare! Quando si parla di farlo in Dante must die diventa una bestemmia unica! Una bestemmia unica! Stai lì a sputtanare gli oggetti per entrare in modalità demone, andare super veloce! Poi magari usare anche il Quicksilver e le sputtanate varie! Per me ritorruttura di maroni! Shishii! Per me ritorruttura di maroni! 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 Per me ritorruttura di marini! Per me ritorruttura di maroni! Per me ritorruttura di maroni! Per me ritorruttura di amore! E' un bel montante al giorno Toglio il medico di torno Per forza ti ammazzo Solitamente dopo che si batte questo boss Lo stile Dovrebbe salire al terzo livello Se non sbaglio Però vediamo I know why you're here You're here to ask me some questions Well too bad I've already answered them myself I don't need you anymore Come on Closer No 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 Oh Grazie a tutti. A parte che fin quando non si capisce bene che cazzo bisogna fare, potrebbe dare parecchi problemi in questo indietro. Potrebbe, un po' non lo so. Sì, credo che ho perduto la mia shadow per un secco. Io mi spaventerei vedere una roba del genere, visto l'usurrida. Che palle. Potere speciale usato da un nemico, frequentemente una riluminazione. E vai, danza macabra ai sage. Danza macabra, una delle migliori mosse mai ideate in tutto, deve mai creare. Porca troia, se do chiunque a dir di no. Eh, non è andata male, il boss l'ho battuto in due secondi. Eh, volevo ben vedere. Va bene. È andata bene anche questa, dai. Adesso scappo, vado di fretta, mi ha chiamato. Ci vediamo alla prossima.